Prima di cominciare questo podcast vogliamo dirvi che i contenuti riportati non sono consigliati ai soggetti facilmente impressionabili Ride, cazzo ride, nessuno guarderà i vecchi amici Bentornati, bentornati, carissimi amici, ascoltatori e podcast visori Esatto, vi auguriamo, anzi speriamo che abbiate passato delle bellissime vacanze, comunque una bellissima Pasqua e Pasquetta Ormai anche questa ce la siamo lasciata alle spalle come tutte le festività d'altronde e siamo veramente prontissimi e carichi per parlarvi di questi argomenti che sono un po' toccanti Cominciamo con una sega che allora è Allora intanto possiamo anche dire di cosa stiamo parlando, l'avranno visto sicuramente dal titolo Però insomma Giusto, allora stiamo parlando dei metodi di tortura medievali più terribili in assoluto E quindi avevo detto subito di cominciare con una sega perché ovviamente l'argomento di cui vogliamo parlarvi è questa sega incredibile Sì 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 perché dovete sapere che prima che la sega venisse utilizzata e usata per tagliare la legna beh insomma serviva per tagliare qualcos'altro Ovvero esseri umani a fini di tortura o esecuzione La vittima veniva appesa pensate a testa in giù con le gambe divaricate completamente nuda che fosse uomo che fosse donna E proprio attraverso una sega di quelle che hanno due manici uno da un lato uno dall'altro due boia possiamo chiamare così si passavano insomma la palla così E iniziavano a tagliare a partire dai genitali fino a che l'uomo o la donna in questione non veramente non stramazzava Esatto esatto e questa pena era riservata a coloro che appunto si erano macchiati di ribellione e coloro che avevano anche disubbidito a ordini militari Esatto invece coloro che venivano accusati di stregoneria in particolare venivano messi in questa posizione soprattutto perché la prima cosa che andava a devastarsi erano i genitali E quindi loro pensavano stregonerie in modo tale che uno ipoteticamente ipotizzando non si possa più riprodurre no capito la prima cosa che ti devastiamo è quella così sei a posto Un altro modo per far soffrire per punire appunto gente nel medioevo era il cosiddetto rullo Esattamente non è quello che si utilizza per asfaltare la strada o comunque sia non si utilizzava ancora per quel metodo lì All'inizio insomma venivano messi due rulli su una tavola di legno uno da una parte uno dall'altra con la vittima stesa in mezzo vedete che facevano ci passavano sopra e no No legavano mani e piedi a questi due rulli e dopodiché iniziavano ad allontanare questi due rulli uno dall'altro L'altro e quindi braccia e gambe iniziavano a distanziarsi dal corpo Esattamente la cosa più incredibile più cruenta che si sentiva durante questa esecuzione era il rumore della cartillagine delle ossa che si fratturavano e si dilaniavano Direi proprio di sì e un altro metodo efficace per far pressione ad altri detenuti o comunque ad altri criminali era quello di costringerli a guardare questo scenario orribile Raccapricciante Questi sono proprio matti cioè questi sono proprio matti E se vogliamo mantenere la gerarchia del fai una notizia te fai una notizia io questa tocca proprio a me iniziarla insomma diciamo così Stiamo parlando dello strappaseno o ragno è veramente una cosa incredibile Cioè io e Michele abbiamo provato anche un non un po' disgusto nel leggere questa cosa Se siete facilmente impressionabili questa maggior ragione schippatela Sì 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 assolutamente sì questa è una punizione riservata più che altro alle donne Punite per appunto essere state accusate di adulterio o aborto Esatto esatto e quindi appunto questi artigli dei veri e propri artigli venivano utilizzati addirittura alcune volte roventi sul seno proprio scoperto della vittima E a questo punto venivano proprio mutilati i seni della donna esattamente Dopo aver affondato gli artigli nei seni appunto della vittima il boia lo strappava via Un'altra diciamo un'altra variante Variante non mi veniva nemmeno la parola di questa di questa tortura Era invece utilizzare il ragno come vi ho detto all'inizio che altro non era che sì sempre due artigli ma attaccati alla parete E una volta appiccicata la vittima questa parete su questi ragni il boia la strappava via proprio dalla parete mutilandole sempre i seni E' curioso anche il fatto che nel raro caso in cui nelle pochissime volte in cui la donna non moriva dissanguata per il tremendo insomma dolore E anche perdita di sangue dove era costretta a vivere sfregiata a vita con i seni fatti a pezzi Esatto esatto ricordiamo per questa punizione era riservata a quelle donne che commettevano adulterio oppure venivano accusate anche di aborto Esatto Benissimo e adesso andiamo avanti Benissimo insomma Benissimo non molto insomma diciamo malissimo e adesso andiamo avanti Con un'altra di queste punizioni e di queste pene riservate appunto ai criminali del medioevo Esatto Infatti andiamo a parlare del cavallo di legno oppure pone di legno o asino spagnolo Esattamente insomma questa questa usanza questa tortura più che usanza direi tortura tremenda che veniva affidata ai criminali dell'epoca Beh insomma sicuramente non era una passeggiata a cavallo come dice il nome Anzi anzi bisognava proprio mettersi a gambe divarcate su questo cavallo insomma a forma di punta Sì esatto era una piramide di legno possiamo dire così affilata E insomma sui tuoi piedi uno da parte una dall'altra venivano attaccati dei gravi due gravi molto molto gravi Molto gravosi devo dire che ti costringevano dopo un po' che eri lì seduto a scendere insieme a loro E quindi questo cuneo diciamo ti penetrava all'interno nella corpo Sì esatto e finché appunto non ti dividevi a metà Esatto 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 una penna terribile come d'altro non abbiamo parlato Cioè veramente delle cose assurde Sì non stiamo parlando di caramelle quindi è chiaro che si possono trovare anche delle cose del genere E andiamo avanti perché abbiamo anche la culla di Giuda che è tanto cullosa diciamo forse non è È più cullosa posso dire posso fare questa battuta me la concedete Sì 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 questa punizione questa tortura veramente straziante anche questa d'altronde Simile al cavallo di legno di cui abbiamo parlato prima Poc'anzi Qua però il condannato il torturato veniva appunto tenuto sospeso da un insieme di corde Al di sopra di un cavalletto con una punta accuminata Esatto esattamente questa punta accuminata ora vi dico dove andava a introdursi Beh ma possono anche immaginarlo Potete immaginarlo però ve lo dico perché comunque questo podcast è rietato ai minori di 18 anni probabilmente Nonostante ci sia il direttore artistico presente in studio No allora questa punta andava proprio a inconficarsi nell'ano o nei genitali quindi forse fa un po' male Esatto esatto quindi questa vittima era sospesa su questo acculeo e in realtà la vera poi tortura consisteva nel fatto che appunto il condannato venisse perennemente sorvegliato Quindi perennemente controllato e questo condannato poverino non gli era permesso rilassarsi neanche un secondo Quindi era sempre in tensione perché appunto aveva questa punta che spingeva Esattamente diciamo che per farla breve se non avesse avuto gente che lo continuava a guardare poteva semplicemente Cioè semplicemente tra virgolette con le corde sollevarsi e quindi rilassare un attimo lo strumento di tortura Ma avendo sempre qualcuno che lo guardava non poteva fare assolutamente una cosa del genere Doveva restare lì con questo accu... Posso dire una cosa però secondo me Secondo me è dolorosissimo e distruttivo ma è forse il meno cruendo Forse il meno peggio Perché comunque non ti entra dentro come può essere il cavallo di legno che abbiamo visto prima Perché qua non hai gravi, non hai niente Sei solo costretto a stare lì con sta piramide Con le chiappe strette Fatemelo capire Con sta piramide proprio ficcata lì Però diciamo che forse tra tutte Un altro metodo di tortura Un altro strumento di tortura Distruzione umana Esatto Usato frequentemente durante l'inquisizione spagnola Era lo spacca ginocchia Esatto Un nome, una garanzia potremmo dire Ah beh direi proprio di sì Perché questo arnese era costituito da due tavole di legno Da due blocchetti di legno Con da tre a venti spine In base al torturato In base a quanto volevano fargli mai ci mettevano una cuneo Cioè tre a cunei O venti Fino a venti E queste due assi di legno con queste punte Erano tenute insieme da due viti Una volta fatte partire queste due viti Con in mezzo al ginocchio Beh potete immaginare che fine Poteva fare il ginocchio Insomma si distruggeva veramente in mille pezzi Ragazzi E non solo perché questo strumento a discrezione del boia Poteva essere usato anche per altre cose Sì su altre parti del corpo E insomma non era simpatico neanche questo No 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 era un po' cattivo Devo essere sincero Insomma ampliamente usato durante l'inquisizione Era anche uno strumento che Un nome una garanzia anche in questo caso direi Sì il frantuma testa Esatto il frantuma testa Non veniva frullata Purtroppo 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 per l'imputato non veniva frullata Perché almeno se la frullava e finiva lì subito No non veniva frullata la testa Veniva messa e l'imputato veniva appoggiato Col mento sopra una barra di ferro E con un casco di metallo sopra E un morsetto alla sommità Il boia iniziava lentamente a girare Questo mestolone di vite Insomma che andava a stringere Cranio e macella E quindi la prima cosa proprio che succedeva Al malcapitato era la rottura dei denti Immaginatevi Il dolore Il dolore e la pressione E la pressione anche che si andava ad esercitare Per rompere i denti Cioè veramente una cosa allucinante Fuori dal comune E alla fine l'imputato moriva A causa del dolore straziante Che questa tortura veramente gli provocava Non prima Lui mi aveva detto di non dirvela Ma secondo me ci può stare Io volevo risparmiarvelo Ve lo devo dire Non prima che gli occhi fuori uscissero dalle orbite Quindi questo vi deve far capire proprio L'idea della pressione che si andava a creare All'interno della scatola cranica Sì direi proprio di sì E nel caso in cui la tortura fosse stata interrotta Prima della morte della vittima Questa avrebbe sicuramente riportato Danni irreparabili E oserei dire anche devastanti Alla mascella Comunque al cervello O appunto come ha detto Fabio Agli occhi Perché appunto la pressione Li faceva schizzare fuori Dalle orbite Insomma le donne girano col reggiseno Non vedo perché lui Insomma non potesse girare Con reggi occhi Esatto Usata soprattutto in Francia E in Germania La ruota Questa appunto ruota Sì ruota Si chiama ruota L'abbiamo già inventata Esatto Era una pena capitale E consisteva in due fasi Nella prima fase Se il condannato Il torturato Era sottoposto A una rottura Degli arti Degli arti E l'agonia Fosse lunghissima E appunto Straziante Insomma ragazzi È incredibile Questa tortura qua Sono incredibili Queste torture Meno male che siamo nati In questo secolo Direi proprio di sì Direi proprio che appunto Per fortuna Siamo andati incontro A un'evoluzione Possiamo dire così Anche di questo aspetto Dal punto di vista penale Ecco se vi ricordate L'immagine che vi ho messo Insomma all'inizio Di questa ruota Ora ve la ripropongo Come potete vedere Sulla destra C'è una persona Che sta decapitando Un uomo E quindi forse Quello era il più fortunato Cosa ne dici Anziché restare in balia Di roditori E aquile eccetera Probabilmente Morire subito forse Sarebbe stato meglio E siamo giunti Al termine anche Di questo podcast Esatto Noi vi ringraziamo tantissimo Chiaramente per essere stati In nostra compagnia Anche per questo Mercoledì Sì in questo podcast Un po' sanguinolento Ma comunque ci sembrava Un argomento Abbastanza interessante Nel senso Parlare di queste torture Del medioevo Vi rimandiamo anche All'appuntamento Se siete curiosi E volete saperne Sicuramente di più A San Marino Andate a San Marino Cioè il museo delle torture Non è l'unico Perché ce ne sono tanti Sparsi in giro per il mondo Forse il più vicino a noi Può essere quello di San Marino E che altro dirvi Beh noi ci rivediamo Mercoledì prossimo In un nuovo podcast Esattamente Mi raccomando di seguirci Su tutti i nostri social Che è veramente importante Facebook Instagram E Youtube Anche chiaramente E se ci state guardando Da Youtube E non siete iscritti Ragazzi iscrivetevi Tanto a voi non costa niente A noi invece ci rende Veramente felici Sì dobbiamo dirlo Direi proprio di sì Potete anche ascoltarci Mediante iTunes E Spotify Ma è incredibile Come facciamo Incredibile Faremo un podcast Solo su dove seguirci Prossimamente Dai vi ringraziamo Per essere stati ancora con noi Vi rimandiamo Mercoledì prossimo Sempre a luna Ciao ragazzi Ciao a tutti IC diesem Un 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 Grazie a tutti.